Questa mattina a Barletta i poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un pluripregiudicato barlettano di 42 anni, restosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenze e minacce nei confronti della moglie e dei figli. La scorsa notte l'uomo rientrato nella sua abitazione in evidente stato di ebrezza alcolica ha picchiato e minacciato di morte e la moglie di suoi figli. I poliziotti, alertati dalla chiamata al 113 effettuata da uno dei figli dell'uomo, si sono recati presso l'abitazione ed hanno fermato il 42enne. Il figlio dell'uomo ha raccontato dei continui maltrattamenti a cui lui e la sorella minore sono stati costretti ad assistere, ormai da diversi anni, riferendo di un padre che puntualmente tornava a casa ubriaco e minacciava e picchiava la loro madre. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Trani.